Grazie a tutti. Che sono certo sarà ricca di stimoli e riflessioni anche alla luce di ciò che sta accadendo sul drammatico versante della crisi in Ucraina. Prima di lasciare la parola al sottosegretario per lo svolgimento della sua relazione, prego i colleghi che intendono intervenire a fare prevenire alla presidenza, come al solito, gli interventi. Dò la parola al sottosegretario Amendola affinché svolga il suo intervento. Prego, sottosegretario. Grazie Presidente, grazie per darmi l'occasione anche di aggiornare sul tema all'ordine del giorno dei lavori che si svolgeranno domani e dopodomani a Parigi con un vertice informale dei capi di governo. In vista anche del Consiglio invece di fine marzo in cui saremo chiamati come Parlamento anche a delle comunicazioni o un voto dell'Aula. È evidente che nel processo di integrazione europea il tema centrale che riguarda diametralmente tutti i settori è relativo agli effetti che questo intervento illegittimo, illegale della Federazione russa in Ucraina ci porta a delle scelte che sono importanti e saranno rilevanti in questo frangente. Gli effetti macroeconomici sulla Russia a seguito delle sanzioni che vorrei anche qui elencare sono sicuramente considerevoli. Assistiamo in questi giorni alla sostanziale perdita del valore del rublo, al congelamento di una fetta consistente delle riserve della Banca centrale russa e a una crescita esponenziale del tasso di interesse, al crollo della borsa di imprese quotate seguito dalla sospensione delle contrattazioni il primo marzo. Ma è evidente che centrale sarà la risoluzione del conflitto in essere, la sospensione degli attacchi e dell'invasione illegale della Federazione russa, come se ne discute in Parlamento, se ne è discusso ultimamente, come ovviamente il Governo intende aggiornare, ma tutto ciò ovviamente ha degli effetti economici anche per noi, come per gli altri Stati membri europei. Tutti ne soffreremo o conseguenze economiche, bisogna dire la verità, e il pericolo a cui facciamo fronte è tale per cui la priorità resta sempre quella di fermare l'invasione, così facendo innanzitutto di salvare le vite. Per questo si dovrà e si discuterà di misure a livello europeo. Per quanto riguarda le misure restrittive, vorrei qui comunicare ufficialmente che nello specifico dal riconoscimento delle repubbliche sebaratiste dello scorso 21 febbraio e il successivo attacco contro l'Ucraina il 24 febbraio, sono stati adottati cinque pacchetti di misure restrittive e cosiddette sanzioni, che hanno colpito alcuni settori chiave dell'economia russa e un numero amplissimo di entità e individui, incluso il Presidente Putin e il Ministro degli Esteri Lavrov, nonché la Bielorussia per il suo sostegno logistico alle attività militare, e proprio adesso, pochi minuti fa, sono state licenziate altre misure restrittive. Per quanto riguarda il settore finanziario è stato previsto un divieto in qualsiasi forma di prestito e di acquisto titoli emessi da alcune banche e governi russi, incluso la Banca Centrale. È stato introdotto l'imposizione di un blocco totale dei beni e di un divieto di finanziamento a tre banche russe, un ampliamento dell'elenco delle società statali e delle banche soggette al divieto di finanziamento, l'introduzione di un divieto di effettuare nuove depositi oltre ai 100.000 euro nelle banche dell'Unione Europea da parte dei cittadini russi, l'esclusione delle principali banche russe al sistema di messaggistica finanziaria SWIFT, il divieto di investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti futuri cofinanziati al Fondo russo per gli investimenti diretti, il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro in Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, inclusi il Governo e la Banca Centrale russa o per l'uso in Russia. Altre misure hanno riguardato il settore dell'energia, con l'introduzione del divieto delle esportazioni specifiche tecnologie di raffinazione del petrolio, in aggiunta al divieto esistente dal 2014 sulle attrezzature petrolifere, l'ampliamento delle restrizioni all'esportazione dei beni e tecnologie, a duplice uso e restrizione dell'esportazione di beni e tecnologie che contribuiscono al settore e alla difesa. Per quanto attiene ai trasporti, anche qui i 27 hanno definito il divieto di esportazione, vendita, fornitura o trasferimento di aereomobili, parti e attrezzature di aereomobili in Russia, nonché il divieto di fornire tutti i relativi servizi di riparazione, manutenzione o finanziaria. È stata inoltre decisa la chiusura allo spazio aereo dell'Unione Europea a tutti gli aereomobili di proprietà in matricolazione o controllati dalla Russia, compresi jet privati. L'Unione Europea ha inoltre imposto sanzione ai canali statali Russia Today e alle trasmissioni di Sputnik nell'Unione Europea per la loro attività di informazione o disinformazione, nonché ha stabilito la sospensione e le sanzioni per i visti dei passaporti diplomatici e dei servizi russi. Per quanto riguarda la Bielorussia, sono state previste anche qui dall'Unione Europea ulteriori restrizioni al commercio dei beni utilizzati per la produzione o la fabbricazione di prodotti del tabacco, combustibili minerali, sostanze bituminose e prodotti a base di idrocarburi gassosi, prodotti a base di cloruro di potassio, prodotti in legno, prodotti in cemento, prodotti siderurgici e prodotti in gomma. Sono state inoltre imposte ulteriori sanzioni all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e alcuni beni e tecnologie che potrebbero contribuire allo sviluppo militare, tecnologico e alla difesa e della sicurezza della Bielorussia, insieme a restrizione alla fornitura di servizi collegati. A livello di misure restrittive individuali nei confronti cittadini russi e bielorussi, dal 23 febbraio sono state sanzionate 510 persone e 5 entità. Al contempo, insieme al quadro sanzionatorio, l'Unione Europea ha prodotto un quadro di aiuti finanziari. Dal 2014 nel quadro delle relazioni bilaterali incardinate nell'accordo di associazione, nell'accordo di libero scambio ampio e approfondito, e per far fronte alle conseguenze del conflitto nella parte orientale del Paese, l'Unione Europea e le istituzioni finanziarie europee hanno fornito all'Ucraina finanziamenti e prestiti per oltre 17 miliardi di euro. Con lo scoppio della nuova crisi, l'Unione Europea ha approvato lo scorso 21 febbraio un ulteriore pacchetto di assistenza macrofinanziaria per l'Ucraina da 1,2 miliardi di euro, i cui 600 milioni immediatamente disponibili. A questa misura finanziaria si aggiungono ulteriori 120 milioni di euro in sovvenzioni per rafforzare la resilienza del Paese e 10 milioni di euro per affrontare le minacce cyber. L'Italia poi ha sostenuto la decisione europea adottata lo scorso 28 febbraio di sostenere le forze armate ucraine tramite forniture di materiale militare sia non letale decisione del Consiglio 339 del 2022 che letale decisione del Consiglio 338 del 2022. A questo scopo il Consiglio ha mobilitato capitane disponibili sul fondo europeo denominato European Peace Facility, un fondo extra bilancio istituito nel 2021 in applicazione della strategia globale europea. I fondi mobilitati ammontano complessivamente a 500 milioni di euro, i cui 450 milioni per equipaggiamento. La modalità di attuazione sarà il rimborso di tutte le spese sostenute dai 27 Ministeri della Difesa europea per l'invio di materiale della difesa dell'Ucraina a partire dal 1 gennaio 2022 per un periodo di 24 mesi. La decisione di fornire materiale e materiale per la difesa a un partner in crisi è del tutto eccezionale ed è stata presa all'unanimità a soli tre giorni dall'avvio dall'aggressione russa, a riprova dell'unità, coesione e determinazione dell'Unione europea nel quadro della Carta delle Nazioni Unite all'articolo 51 che prevede il diritto all'autodifesa dei popoli. Per quanto riguarda gli aiuti umanitari e materiali, la drammatica evoluzione che vediamo ovviamente ogni giorno, tanto entro i confini ucraini quanto nei paesi terzi di prima accoglienza ai profughi, ha innescato la risposta della Commissione europea alla quale si è attivata lungo tre direttrici. Un primo intervento di natura strettamente emergenziale e umanitaria, pari a 90 milioni di euro, di cui 85 milioni destinati all'Ucraina, con un incremento di circa 60 milioni in fondi aggiuntivi rispetto a quanto originariamente allocato al bilancio europeo per il 2022, 5 milioni a favore della Moldova. Un pacchetto da almeno 500 milioni di euro annunciato dalla Presidente von der Leyen in occasione della riunione plenaria del Parlamento europeo lo scorso 1 marzo per l'assistenza umanitaria e il sostegno alle autorità ucraina a valere sul bilancio europeo. Dalle prime indicazioni ricevute esse si comporrebbe per l'Ucraina, sono 27 gli Stati europei sinora intervenuti attraverso il coordinamento del meccanismo unionale di protezione civile per offrire aiuti materiali alle autorità di Kiev per un valore totale di 100 milioni di euro. In occasione del Consiglio Affari Interni del 3 marzo è stato raggiunto in Consiglio un accordo politico unitario sull'attivazione della direttiva per la protezione temporanea a favore dei profughi ucraini, protezione per un anno su richiesta rinnovabili per altri due periodi semestrali e stesa anche ai rifugiati residenti in Ucraina. Si tratta di una scelta come sapete storica in ossequio al principio della solidarietà e su questa linea ovviamente viene attivata per la prima volta questa direttiva. anche stati membri tradizionalmente in dubbio su temi dell'accoglienza stanno dando prova tutti insieme di grande solidarietà di fronte a questa immane tragedia a partire dai paesi confinanti che sono Polonia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Moldova anche se extra ue. Gli eventi in Ucraina poi ci portano ovviamente a riflettere sul ruolo internazionale dell'Unione, sulle nostre capacità di reazione e resilienza sulla politica nei confronti del vicinato. La crisi ci ha portato come sapete a fare delle scelte di emergenza così come anche definito la Camera dei Deputati nelle comunicazioni ultime della settimana scorsa. Il dibattito sulla difesa europea torna prepotentemente, sarà oggetto del vertice di Versailles e del vertice di fine marzo del Consiglio europeo in seduta formale, spingendo l'Unione a fare quello che abbiamo sempre rinviato in politica estera nella gestione delle migrazioni e soprattutto nel settore energetico. Il dibattito sulla difesa europea torna prepotentemente all'ordine del giorno e l'Italia è disponibile a contribuire ai negoziati per finalizzare la bussola strategica, ossia il documento che dovrà fornire indicazioni operative per il rilancio della politica di sicurezza e difesa comune nei prossimi 5-10 anni e che sarà proprio adottato al prossimo Consiglio europeo del 24 e 25 marzo. È necessario ovviamente che il vertice informale di Versailles, che inizierà giovedì e venerdì, produca un salto di qualità in vista delle decisioni formali a cui anche il Parlamento italiano sarà chiamato a discutere. Sul tema dell'energia, che è il secondo oggetto del vertice di Versailles, in preparazione sempre del vertice del 25 e 26 marzo a Bruxelles, e che è il tema anche su cui gli effetti economici di questa tragedia umanitaria e di questo intervento militare, l'Italia è chiamata a discutere, rende più urgente complesso il tema della resilienza al sistema energetico europeo. Ieri proprio la Commissione approvato un pacchetto denominato Repower EU per contrastare l'aumento dei prezzi e raggiungere l'indipendenza, soprattutto dal gas russo entro il 2030, con una riduzione già dei due terzi entro quest'anno. Il pacchetto prevede azioni urgenti sui prezzi, stoccaggi per il prossimo inverno, misure per eliminare le nostre dipendenze proprio dal fornitore russo. Sul fronte dei prezzi, la Commissione conferma la possibilità della regolazione dei prezzi e l'energia elettrica al dettaglio per aiutare e tutelare consumatori e imprese. Offre un orientamento su come applicare misure temporanee di natura fiscale per estrarre le rendite di cui alcuni operatori sul mercato elettrico stanno beneficiando a causa degli elevati prezzi al gas e si prevedono misure provvisorie quali aiuti di Stato. Per quanto riguarda gli stoccaggi gas, la Commissione intende presentare entro aprile una proposta legislativa su obblighi minimi a livello nazionale per arrivare entro il primo ottobre di ogni anno a un riempimento del 90% a livello europeo. La Commissione ha inoltre confermato l'intenzione di andare avanti con gli acquisti congiunti di gas per il riempimento degli stoccaggi. Per la riduzione del gas russo, la Commissione propone accelerare lo sviluppo delle rinnovabili e le misure di efficienza energetica, snellire le procedure autorizzative per i progetti energetici, diversificare le nostre forniture di gas rotte con gli altri partner internazionali, fissa un nuovo target europeo per la produzione di biometano utilizzando la politica agricola comune per aiutare gli agricoltori a diventare produttori, aumentare l'obiettivo europeo sull'idrogeno, sviluppando infrastrutture, capacità di stoccaggio e porti con ulteriori quantità entro il 2030 in aggiunta a quelle previste già per il pacchetto Fit 455. Al tempo stesso dobbiamo proteggere nel momento in cui adottiamo queste scelte con comune integrazione su energia difesa anche la crescita dell'economia europea, attutire i colpi che verranno necessariamente dalla vicenda storica che stiamo vivendo, ma anche proteggere la crescita economica europea che si stava rialzando dopo la pesante recessione causata dalla pandemia. Insomma, per usare le parole del Commissario Gentiloni, fare una politica di crescita in tempo di guerra. In primo luogo è oggi più che mai urgente utilizzare al meglio le risorse messe a disposizione nell'ambito del Next Generation EU, come anche questa Commissione il Parlamento analizzerà in base alla relazione. E come Unione dobbiamo ridurre le nostre dipendenze strategiche, in particolare nei settori delle materie prime e critiche, dei semiconduttori, della salute e del digitale. Fondamentale sarà l'approvvigionamento dell'Unione Europea attraverso partenariati strategici, i cosiddetti Global Gateway, esplorando lo stoccaggio strategico, promuovendo l'economia circolare e l'efficienza delle risorse, sviluppando la capacità di produzione dell'Unione Europea con l'obiettivo di garantire, come previsto dall'ultimo European Chips Act, il 20% della quota di mercato globale entro il 2030. In tutti questi settori sarà essenziale per l'Unione Europea garantire la cooperazione, promuovendo iniziative industriali attraverso gli IPCEI e le alleanze industriali, nonché rafforzare la capacità di ricerca e innovazione e l'Unione. Per rendere l'Europa un attore globale dobbiamo definire un nuovo modello di crescita e di produzione. L'Europa ha bisogno di costruire filiere industriali forti e integrati, idrogeno, batterie, spazio, semiconduttori, cloud, difesa, salute, cultura, industrie culturali e creative nei settori che influenzano l'economia e la competizione di oggi. Un nuovo modello dovrà basarsi su regole però di bilancio adattate per rendere possibili gli investimenti necessari alla transizione ecologica e digitale. Il fabbisogno aggiuntivo di investimenti pubblici e privati necessario a raggiungere entro il 2030 gli ambiziosi obiettivi dell'Unione Europea che si è posta e stimata dalla stessa Commissione in 650 miliardi di euro l'anno, una somma prossima all'ammontare quinquennale del next generation. Oggi più che mai quindi abbiamo bisogno di più spazio di manovra e di margine di spesa sufficienti per garantire la nostra piena autonomia ed è pertanto fondamentale assicurare che la politica fiscale e le regole di bilancio sospese nel periodo Covid sostengono la ripresa economica e gli investimenti per la transizione ecologica e digitale riflettendo la situazione geopolitica attuale. Quindi avremo bisogno di politiche di bilancio credibili, trasparenti, modificate e in grado di contribuire alla nostra ambizione collettiva di avere un'Europa più forte, più sostenibile e più giusta. Infine, a conferma del ruolo centrale dell'Unione Europea nell'attuale crisi si inserisce la domanda di adesione dell'Ucraina alla membership europea, inviata lo scorso 3 marzo al Presidente ucraino, cui hanno fatto seguito anche le domande di Georgia e di Moldova. L'aspirazione dell'Ucraina a partenere alla famiglia europea, come ha confermato il Presidente del Consiglio Mario Deraghi e la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, è legittima, ma si tratta di un processo e non di un automatismo. Il Consiglio ha recepito tali domande chiedendo alla Commissione di predisporre un parere per poi decidere come procedere secondo i meccanismi conosciuti. Nel frattempo, alla piena attuazione dell'accordo di associazione e tutte le misure prese e che saranno prese in questo congente, momento resta lo strumento centrale per avvicinare ulteriormente l'Ucraina agli altri partner dell'Unione. È importante in questa fase drammatica dare messaggi positivi senza tuttavia alimentare aspettative realistiche. Vi ringrazio. Grazie Sottosegretario. Iniziamo con gli interventi. Il collega Pettarin, prego. Grazie, ringrazio. Mi scuso con i colleghi perché dovrò tra poco andare in quinta Commissione proprio per vicende collegate. Grazie al Sottosegretario Aumentola per poter essere qui con noi. Grazie per l'informazione che ci ha portato. Io credo che si possa dire con grande trasparenza che le risposte che l'Unione Europea e i suoi componenti hanno dato sono risposte adeguate e sono ancora più adeguate le sensibilità che tutti i soggetti partner stanno esprimendo nella coscienza di quelli che saranno i passi futuri. Io vorrei ricordare due cose. In slavo zirne vuol dire nero, bielo vuol dire bianco. Bielorussia è la Russia bianca. È evidente che questo è un tema che va a posto. È altrettanto evidente che il collegamento con l'inizio della membership su richiesta della Ucraina, della Moldovia e della Georgia è un tema assolutamente rilevante. Ma io vorrei che non dimenticassimo, e sono sicuro che il Sottosegretario Aumentola non lo dimentica, che abbiamo un tema ulteriormente importante che si collega direttamente con queste vicende, cioè l'allargamento dell'Unione Europea ai Balcani occidentali. Io ricordo, per i colleghi che non lo stanno vivendo in diretta, questo non vale sicuramente per le strutture ministeriali, che la situazione di difficoltà che si respira in quegli ambiti è sempre più presente. La Serbia sta assumendo degli atteggiamenti imbarazzanti. La Bosnia è assolutamente in pericolo. Il Kosovo sta continuando a chiedere ripetutamente di poter procedere nell'iter di allargamento dell'Unione Europea, ma anche di adesione alla Nato. E soprattutto quegli ambiti territoriali, ricordo la vicenda Cina-Montenegro, sono certamente dei luoghi in cui il vuoto che dopo 26 anni da Dayton e 19 anni da Salonico, altri stanno riempiendo. Quegli altri sono la Russia, la Cina, gli Emirati e la Turchia. E io chiedo che si possa avere assicurazioni per quanto possibile naturalmente che la sensibilità su questi punti è sempre estremamente attenta e che anche se sono degli iter lunghi e complicati, talvolta bisogna avere il coraggio di prendere il cuore e gettarlo oltre l'ostacolo. Quindi chiedo a Vincenzo per quanto possibile di poter testimoniare questa esigenza e questa sottolineatura. Abbiamo bisogno per evitare che vi possano essere momenti di ulteriore messa in difficoltà del nostro sistema, che l'allargamento intervenga subito, per poter evitare che quel contesto diventi con troppa facilità un altro momento di crisi che sarebbe molto facile scatenare e che se scatenato dividerebbe i nostri fronti e ci metterebbe effettivamente in grandissima difficoltà. Per chi non se lo ricorda, ricordo i bombardamenti che la Nato fece a Belgrado e ricordo che cosa accadde in quei tipi di contesti. Non possiamo assolutamente rischiare in nessun modo che questo non solitamente si ripeta, ma possa fungere da vantaggio per l'attività che la Russia in maniera inconcepibile ha messo in piedi in questo momento. Grazie. Grazie collega Pettadini e collega Berti. Grazie Presidente. Il dibattito sull'integrazione europea deve sicuramente avere una prospettiva storica, una prospettiva anche più o meno federalista, se le forze politiche sposano quel tipo di idea di integrazione, però deve avere anche una prospettiva realista. Quello che è fatto in queste settimane non è mai stato fatto nella storia forse dell'Unione europea dal trattato CED fino ad oggi, con la differenza che oggi forse sentiamo proprio un pericolo che deriva poi dal vuoto di potere dell'Europa centrale e il vuoto di un ordine che di fatto non c'è più dalla caduta del muro di Berlino ad oggi. Quello che chiedo al sottosegretario è se veramente siamo, secondo la sua percezione, a un momento di svolta, perché voler creare una difesa europea vuol dire creare anche appunto una capacità di investimento, una condivisa capacità di percepire la minaccia qualunque essa sia e avendo 27 stati, è sempre più difficile trovare una visione comune su questi temi. Vorrei capire qual è la percezione appunto più che altro fuori dall'Italia, perché in Italia noi sappiamo tutti qual è bene o male l'orientamento comune, abbiamo votato una risoluzione alla maggioranza recentemente su temi molto complessi e delicati, con un appunto però molto preciso che voglio dire al sottosegretario. Noi abbiamo come Italia e come forze politiche abbiamo anche detto che non vogliamo più l'Europa dell'austerità, che vogliamo un'Europa sempre più federale, ci ricordiamo che il bilancio dell'Unione Europea vale l'1% delle spese del PIL a livello nazionale, il 2% con i recovery fund, ma nei paesi veramente federali vale il 40% che ci sono entro voci di bilancio come sociale, possiamo dire sure o anche la difesa. Io vorrei chiedere al sottosegretario come l'Italia può interpretare anche questo nuovo corso senza però apparire come il paese che vuole diciamo scaricare il costo delle proprie politiche pubbliche sull'Europa, perché se no noi rischiamo di voler passare come soltanto un paese che vuole fare come si dice in termini economici il free rider della spesa pubblica altrui, quando invece l'Italia vuole dare un contributo serio all'integrazione europea, consapevole il proprio contributo appunto e non costando e pesando sui bilanci altrui. Grazie. Grazie collega Berti e il collega Vigna. Grazie Presidente, grazie al sottosegretario Amendola per l'ottima relazione dal nostro punto di vista, talmente ottima che tra l'altro chiedo ufficialmente al sottosegretario se la può depositare agli uffici, se ce la possono inviare anche se presumo che probabilmente di giorno in giorno aumenteranno soprattutto le sanzioni e i provvedimenti verso la Russia. Ma allora vabbè, le sanzioni sono giuste, questo è chiaro e questo è più un qualche cosa che riguarda la geopolitica, la politica internazionale, concentriamoci direi sui temi che c'entrano con la nostra commissione e quindi parliamo di sistema paese e di Unione europea. Proteggere le imprese, sottosegretario, proteggere le imprese, proteggere il lavoro italiano è oggi una priorità nazionale. Lo ribadisco ancora una volta, le sanzioni sono giuste, bisogna dare una risposta e stiamo dando una risposta importante alla Russia, ma è chiaro che l'Unione europea dovrà a questo punto fare la sua parte e lei ha detto che stanno a Bruxelles studiando insieme ai paesi il modo di fare la propria parte per andare a sopperire a un eventuale, ma oramai quasi sicuro, effetto boomerang delle sanzioni. Quindi si parla di un fondo emergenziale, dai documenti e le notizie che arrivano da Bruxelles, si parla di continuare a fermare la sospensione del patto di stabilità già sospeso per l'emergenza Covid, sarebbe importante in questa fase che gli stati continuassero, avessero la possibilità di continuare a dare aiuti di Stato alle imprese e al lavoro in difficoltà e io lo risottolineo, è una questione di priorità nazionale. Ieri in un'altra audizione il sottosegretario vi era distribuita fra i documenti del Parlamento una cartina con, che non ho dietro, se no gliela facevo vedere, una cartina con dislocati i vari, con l'Italia dislocata all'interno della Nato e soprattutto sul confine orientale della Nato. E quindi vi erano ieri gli uomini, che cosa fanno, le attrezzature e poi vi era un numerino e quel numerino è la cifra in euro di quello che costa dislocare tutte queste attrezzature uomini sul confine orientale. Ecco, non dimentichiamo mai che quel numerino, quel costo, quei euri che noi abbiamo dislocato lì sul confine orientale per la nostra parte della Nato, sono sostanzialmente, arrivano in pratica dalle tasse pagate dal lavoro e dalle imprese italiane. E anche per questo che diciamo che quindi proteggere il lavoro e le imprese italiane dall'effetto boomerang che potrebbero avere le sanzioni giuste che l'Unione Europea mette sulla Russia è una priorità nazionale e interesse nazionale. E poi finalmente noi come Lega sono anni che lo diciamo e purtroppo è servita prima una pandemia e poi la guerra ai confini dell'Europa, anzi la guerra nel cuore dell'Europa ai confini dell'Unione Europea, e noi sono anni che lo diciamo, che si deve andare nella direzione di un'autonomia energetica del Paese o perlomeno dell'Unione Europea, quindi di sicuro con le rinnovabili, ma bisogna anche far cadere certi dogmi ideologici a questo punto e per dogmi ideologici intendo dire che il termovalorizzatore crea energia oltre a creare ricchezza e risolverebbe anche altri problemi un po' più spicci delle nostre città, che non è questa la sede di discuterne, il nucleare è evidentemente un qualche cosa da sfruttare, nucleare civile di nuova generazione, parlare di nucleare adesso fa quasi paura perché si pensa alle notizie che arrivano da Cernobil, ma è chiaro che questo continente deve diventare indipendente dal punto di vista energetico e, e questo l'ha detto pure lei, sottosegretario, bisogna ridurre la dipendenza del Paese, del sistema Paese e dell'Unione Europea dai paesi fuori dall'Unione Europea e quindi dall'extra E, quindi ritornare a produrre in questo continente e diversificare le linee di approvvigionamento. Solo in questo modo l'Unione Europea avrà quel ruolo centrale che spetta a questo continente nell'ambito del pianeta. Detto questo, parlando di ruolo centrale, vado a concludere Presidente, siamo i più esposti in questa guerra, in questa crisi, l'Unione Europea e l'istituzione e i popoli dell'Unione Europea sono istituzioni più esposti, dobbiamo avere un ruolo centrale nella soluzione di questa crisi, dobbiamo sedere in qualche modo, non sta a me dirlo qua ovviamente, dobbiamo sedere in qualche modo a quel tavolo di trattativa che Bruxelles trovi il modo di fare da pacere o di rappresentare una parte in particolare. Però è chiaro che dobbiamo essere più presenti nella soluzione e muoverci tutti insieme come Unione Europea. Grazie. Grazie Vigna. La collega, la vicepresidente Dossini. Grazie sottosegretario. È chiaro davvero che questa situazione sta dando un'accelerata impensabile al processo di integrazione europea, andando a rafforzare proprio quei principi che l'anno scorso si definivano di costruire un'autonomia strategica in molti settori. Questo anche a lungo termine, a breve termine rispetto alla risoluzione di questa invasione illegittima e inaccettabile di un paese libero e indipendente come l'Ucraina. Volevo chiederle. Sappiamo e vediamo che le sanzioni stanno funzionando, nel senso che stamattina le notizie che la Federazione russa è quasi al default. Le volevo chiedere proprio se lei sente che anche in vista del 12 marzo o domenica dovrebbe uscire dal sistema SWIFT e quindi praticamente colpirebbe tutti i cittadini russi, Bancoman non funzionerebbero più. Questa stretta, ulteriormente probabilmente rafforzata dagli incontri di domani. Potrebbe essere la mossa per arrivare a un accordo per lo meno su cessate il fuoco, sente che si è vicine almeno a questa fase e anche quelle ipotesi che circola, per lo meno sui giornali, di un'ipotesi di neutralità della Ucraina pur all'interno di un'Unione Europea come l'Austria. È un'ipotesi vera che è al tavolo della diplomazia o no? Grazie. Grazie Rossini. Il collega De Luca? Grazie Presidente, ringrazio anch'io il sottosegretario Amendola per la disponibilità all'audizione e per la relazione che ha svolto. Siamo pienamente in linea con le sue considerazioni. Purtroppo questa crisi drammatica determinata da un attacco ingiustificato da parte dell'autorità russe all'Ucraina ha posto tutta la comunità europea di fronte a un tornante storico. È ritornata la consapevolezza che la libertà e la democrazia non sono dei valori garantiti, assoluti, nemmeno nel nostro territorio, più una guerra drammatica alle porte dell'Europa e una guerra di cui non immaginavamo che si potesse avere nuova contezza e visione da 70 anni dopo la seconda guerra mondiale. Tutto questo ha posto l'Unione Europea di fronte ad una scelta che era quella di cui si è trovata di fronte per reagire e rispondere alla pandemia. Come in questa circostanza, come la circostanza è la risposta al coronavirus, l'Europa ha avuto la capacità di reagire in modo unitario, compatto e direi anche tempestivo alle sfide, alle criticità che emergevano dalla vicenda ucraina. Le misure che ci ha rappresentato il sottosegretario sono misure straordinarie, mai adottate finora con questa forza, con questa compattezza e con questa decisione. Il più grande pacchetto di sanzioni mai adottato nella storia dell'Unione Europea. Aiuti finanziari, umanitari imponenti che si sommano a quelli già previsti dal 2014, stanziati dal 2014, di sostegno alla popolazione ucraina. L'applicazione di una direttiva, quella sulla protezione temporanea, mai applicata finora, che ha consentito e consente a tutti gli Stati membri di accogliere, dare tutela e solidarietà a milioni di rifugiati, migranti in fuga dall'Ucraina, con tempistiche eccezionali. Quindi noi siamo soddisfatti e contenti del percorso che l'Europa sta svolgendo delle decisioni assunte. Siamo convinti che l'Italia sia stata protagonista e siamo soddisfatti e credo sia doveroso ricordare che fortunatamente abbiamo un governo pienamente europeista e pienamente atlantista che sta conducendo il lavoro all'interno di un quadro e della cornice atlantica e di un quadro europeo. Le priorità sono quelle che lei ci rappresentava e noi le condividiamo in pieno. Oggi abbiamo la necessità di continuare a rafforzare le sanzioni per portare ovviamente la Russia a un tavolo negoziale che è per noi l'unica strada possibile per una soluzione quanto più pacifica possibile ovviamente alla crisi. Da questo punto di vista noi auspichiamo e chiediamo a lei se ci sono le condizioni per sostenere già dal prossimo vertice di Versailles la possibilità che l'Europa possa ancor più essere protagonista anche di una promozione, farsi promotore di un tavolo di pace negoziale come già fatto finora ma farlo con ancora maggiore forza e autorevolezza a livello internazionale. Si parlava anche della possibilità di convocare una sorta di conferenza di pace, quali sono le condizioni perché l'Unione possa assumere un ruolo da protagonista ancora maggiore rispetto alla possibilità di giungere ad un negoziato che possa consentire il cessato e il fuoco immediato e una soluzione negoziale all'attuale crisi. L'altra tematica di cui vi occuperete e noi la riteniamo assolutamente prioritaria è quella legata ovviamente ai costi che le sanzioni applicate, le decisioni, la fermezza che l'Unione ha assunto in questo periodo sta provocando ovviamente da un punto di vista economico sulle imprese, sulle famiglie, sulle nostre intere comunità. Come ha ricordato il Presidente Mattarella il costo di una non azione sarebbe stato ancora maggiore e la tutela dei valori indissolubili di libertà e democrazia non sono negoziabili, non sono ricattabili dal rischio di un aumento dei costi dell'energia e quindi difficoltà dell'economia del nostro Paese. Eppure abbiamo il dovere di provare a fare il massimo possibile come si sta provando a fare per sostenere le imprese le famiglie per far crescere e continuare quella parabola di crescita in un'economia di guerra come ha detto e ricordava lei anche il Commissario Gentiloni. Da questo punto di vista è possibile che per sostenere come lei sta dicendo a più riprese misure di acquisti e stoccaggi comuni di gas si possa arrivare a misure sostenute anche tramite nuove emissioni di eurobond a livello europeo è un tema in discussione diciamo in divenire nell'ambito di discussioni che stanno facendo su tavoli negoziali a livello europeo e se si comincerà a discutere sia pure informalmente di quello che deve essere del patto di stabilità nei prossimi mesi. Se non diciamo ridiscussione perché probabilmente non è questo il momento sicuramente la possibilità di immaginare un diciamo un rientro ancora più graduale elastico all'interno dei parametri prima di una revisione che auspichiamo possa consentire di tenere sempre sotto controllo il debito ma sostenere maggiormente gli investimenti e la crescita negli stati membri. Grazie. Grazie collega De Luca. Il collega Colaninno. Grazie presidente Battelli. Volevo da parte mia del gruppo d'Italia Viva ringraziare e sostenere le parole e l'azione del governo attraverso di lei sottosegretario Amendola. Abbiamo apprezzato l'azione che lei oggi ci ha ricordato nella sua relazione anche per me sarebbe molto utile poterla ricevere e in particolare l'ampiezza, la progressione e la magnitudine delle sanzioni che crediamo debba essere, questo diciamo è un tema che poniamo, che lasciamo e che chiediamo al governo debba essere probabilmente ancora di più intensificata nella severità essendo consapevoli che tutto questo ha delle ricadute anche e degli effetti sulla nostra vita sociale ed economica ma il tema è cercare di fermare adesso quanto prima questa aggressione violenta, ingiustificata di una guerra ad uno Stato sovrano e ricondurre le circostanze alla diplomazia e al negoziato. Crediamo purtroppo che serva ora esprimere in termini di sanzioni la massima severità possibile per fermare questa guerra e d'altro canto come unico elemento utile per non utilizzare altri elementi che inevitabilmente porterebbero all'espansione di un conflitto che noi non vogliamo. Quindi perché rimanga agli atti totale sostegno a lei Sottosegretario, al governo per quello che state facendo in questa grave crisi e questa grave situazione non è che purtroppo dopo due anni di pandemia non ci voleva, non ci voleva per noi e soprattutto per le vite inermi che vengono colpite da un attacco e da una guerra così barbara e violenta. Grazie. Grazie collega Colaninno, il collega Maggioni e poi la collega Galizia. Abbiamo concluso. Sì, grazie Presidente. Ringrazio anch'io il Sottosegretario Amendola per la precisione con cui ha esposto gli elementi che conseguono alle azioni messe in campo dall'Unione Europea e dal nostro governo. Parto però dall'ultimo passaggio che lei Sottosegretario ha fatto e che condividi in pieno quando lei ha fatto un richiamo chiaro al realismo. Perché se non ci muoviamo da una posizione che sia autenticamente realista, noi non riusciamo a fare un'analisi che porti molto in là rispetto a quanto si può leggere sulla carta stampata che è spesso un po' affetta da vedere le parti con spirito di tifoseria. Se le sanzioni che stiamo mettendo in campo sono sanzioni economiche che hanno l'obiettivo di far terminare questo conflitto nel più breve tempo possibile, allora sono sanzioni economiche assolutamente corrette, però dobbiamo essere realizzati e capire, sapere che queste sanzioni economiche per quanto riguarda il nostro Paese sono sanzioni economiche che nel lungo periodo sono insostenibili e quindi comporteranno tutta una serie di ripercussioni dal punto di vista economico e soprattutto sociale di cui dobbiamo essere consapevoli. Detto questo, visto che ha fatto un giustissimo richiamo al realismo, lo dico anche come Presidente dell'iniziativa Centro-Europea, dobbiamo fare molta attenzione a fughe in avanti riguardo a richieste che arrivano da Paesi dell'Est Europa riguardo all'adesione all'Unione Europea. Questo perché c'è il rischio che queste richieste da parte di Paesi che non hanno parametri economici, finanziari, sociali, giuridici, che sono compatibili con quelli che sono i nostri trattati, rischiano di generare delle tensioni dell'area balcanica che non ci possiamo permettere. Noi abbiamo, citavo anche già prima il collega Pettarin Salonico nel 2003 che aveva aperto una prospettiva di integrazione europea ai Balcani occidentali, questi Paesi stanno con mille difficoltà facendo riforme che li stanno progressivamente avvicinando l'Unione Europea, sappiamo quelli che sono gli interessi in campo a livello geopolitico in quell'area, sappiamo che i due Paesi che hanno uno Stato più avanzato, che sono il Montenegro e la Serbia, hanno vicinanze politiche con Russia e Cina, o almeno l'hanno avuto nel recente passato, e quindi fughi in avanti verso Paesi dell'Est Europa rischiano di portare a ulteriori tensioni in quell'area che non ci possiamo, ripeto, permettere. Quella è un'area che non sta vivendo fortunatamente situazioni di guerra, ma non è un'area che possiamo considerare pacificata. Vedo il Kosovo che chiede l'adesione alla Nato, ricordo che il Kosovo non è nemmeno riconosciuto da tutti i Paesi dell'Unione Europea. E quindi credo che una fuga in avanti verso Ucraina, Moldova, Georgia, possa essere un pericolo proprio a pochi chilometri dai nostri confini. Per questo le chiedo, nei prossimi incontri che terrà a livello europeo, di riportare uno spirito di analisi maggiore su quello che è un'area estremamente delicata e che se dovesse ritornare a scenari che abbiamo visto negli anni 90 comporterebbe non soltanto un escalation dal punto di vista militare, ma avrebbe anche delle ripercussioni in ambito religioso perché sappiamo che quel territorio è comunque un punto di incontro e mi auguro non di scontro, come è accaduto appunto negli anni 90, tra la componente cattolica, la componente ortodossa e la componente musulmana. Quindi chiedo che si faccia massima attenzione e che si tengano debitamente in conti i rischi su un quadro geopolitico sempre più complicato e complesso. Grazie. Grazie Maggioni, collega Galizia. Grazie Presidente, anche io volevo ringraziare il Sottosegretario Amendola per il suo contributo che ci ha portato oggi, è estremamente interessante. Io ho due rapidi flash che volevo fare. La prima è legata alla questione dell'emergenza umanitaria. Certamente qualcosa si sta sbloccando in Europa visto che è stata applicata la direttiva europea sulla protezione temporanea e questo sicuramente è un bel segnale. Stiamo vedendo anche una grande rete di solidarietà che si sta muovendo da parte di tutti i cittadini, anche di noi italiani, devo dire che si sta facendo un ottimo lavoro. Però io credo che sia necessario anche cercare di riportare il dibattito a livello europeo sulla tematica dell'immigrazione, perché come tutti sappiamo ciò che riguarda il nuovo patto di immigrazione e asilo rimane sempre in stallo. Quindi io credo che sia il momento di rimetterlo in discussione. Volevo chiederle se ci potranno essere dei margini in un prossimo futuro molto stretto per rimettersi a lavorare su questo tema. L'altra questione invece riguarda il Next Generation EU. Come ha detto lei, Gentiloni ha detto che è un momento storico in cui fare politiche espansive in un momento di guerra, ovviamente è una questione abbastanza anche complicata da gestire. Ecco, io sono molto preoccupata per i tempi del recovery, perché noi abbiamo dei tempi molto stretti e in realtà poi facendo i conti con quelli che sono i bambi che noi abbiamo sui territori ci sono dei forti ritardi, non solo ritardi legati a una questione nostra amministrativa interna, ma guardo anche a quello che è l'aumento dei costi delle materie prime, al costo di quello che era un appalto che si era fatto un preventivo che oggi non è più attendibile. Ecco, secondo lei si potrebbe parlare a livello europeo di una posticipazione dei tempi magari, perché il recovery prevede dei tempi stretti. Non sarebbe il caso in questo momento storico, avendo questa situazione così complessa, di poter rivederla almeno nei tempi, se non vogliamo rivedere le somme, perché sennò si creerebbe magari inflazione o qualche altro meccanismo che ci può sfuggire dalle mani? Grazie. Grazie collega Galizia, non ci sono altri interventi? No? Quindi prego, collega me. Grazie collega. Proverò a rispondere nel merito a tutte le osservazioni molto puntuali dei colleghi. Innanzitutto l'onorevole Pettarin, rispondo in contumacia, ma credo che anche l'onorevole Maggione della Lega ha sollevato gli stessi temi. Allora, noi siamo in un processo di negoziato per la candidatura di due paesi dei Balcani occidentali che sono Albania e Nord Macedonia. Soprattutto sulla Nord Macedonia c'è un blocco dovuto a una vicenda bilaterale con la Bulgaria. Credo che il nuovo governo bulgaro, mi auguro, ci aiuti a superare un tema che poi tra l'altro non è nemmeno, è un tema prettamente bilaterale di indirizzo storico, come si potrebbe dire, storico-linguistico. Noi abbiamo sempre pensato che l'allargamento dei Balcani occidentali fosse sia una scelta politica. Ovviamente quando si accetta la candidatura di un paese, questo è un processo per l'entrata nella membership ufficiale che non è automatico, anche lì ci sono paesi che negoziano i vari capitoli, che producono riforme, ma non far accedere Albania e Nord Macedonia in questo processo, secondo noi è un ritardo e un rischio che non possiamo permetterci, perché l'influenza geopolitica di altri attori globali in quella parte di sud-est Europa è qualcosa che noi abbiamo sempre sottolineato. Io credo che anche questo Parlamento, ho visto varie emozioni sull'allargamento dei Balcani occidentali, differente tema dalla Turchia che come sapete ha un processo un po' disallineato ai Balcani occidentali, ci sia largo consenso. Ora qual è il punto? Che i paesi che si trovano nei Balcani occidentali hanno una propensione che noi abbiamo sempre rimandato anche perché avremmo necessità di riforme anche istituzionali a livello europeo nei meccanismi dell'allargamento su cui lavorare. Noi manteniamo ferma la posizione dell'allargamento. Faccio notare, l'onorevole aveva ragione a sottolineare le difficoltà, le fragilità, penso soprattutto alla Bosnia e Herzegovina con quello che sta succedendo in quello Stato con delle posizioni molto complesse, però faccio anche notare per esempio che la Repubblica Serba a livello di Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato una dura condanna con gli altri paesi, quindi non stiamo parlando di satelliti di alcuni attori geopolitici, stiamo parlando di paesi che hanno una traiettoria, hanno delle difficoltà storiche perché il conflitto nei Balcani occidentali ha creato ancora stallo per esempio nelle procedure negoziali tra Serbia e Kosovo e questo determina delle difficoltà. Ma aprire alla membership, alla candidatura e al negoziato a tutti i Balcani occidentali io credo che sia una scelta non tecnico-burocratica ma politica dell'Unione Europea per far sì che appunto gli effetti geopolitici turbolenti a livello globale siano siano chiari. Per quanto riguarda Ucraina, Moldova e Georgia, voi sapete che nei processi di adesione c'è anche il tema di nazioni in conflitto o con delle vicende che sappiamo sempre ricadono nel lavoro della Federazione Russia per quanto riguarda le repubbliche separatistiche in Moldova, in Georgia e ovviamente quelle che poi si sono autoproclamate indipendenti oppure c'è il tema della Crimea. Però il punto politico ovviamente, dinanzi a quello che sta succedendo l'appartenenza alla famiglia non può essere messa in discussione. Questo non produce un automatismo, è un processo, è un processo che noi dobbiamo facilitare. Gli stati membri hanno mandato alla Commissione di fare una proposta, noi in questo frangente, soprattutto adesso che l'Ucraina è sotto le bombe e sotto l'invasione militare, ovviamente dobbiamo dare il massimo del messaggio politico positivo e non aprire un dibattito, io credo che sia spiacevole anche tra gli stati membri sulle procedure tecniche e sugli elementi che invece fanno parte di una stessa ispirazione e anche di una stessa idea politica. Per quanto riguarda le altre domande, l'On. Berti fa un'osservazione molto giusta, attenzione perché gli effetti economici che noi subiremo come 27 e come Italia dobbiamo essere pronti, ecco, voi siete classe dirigente, il governo pienamente responsabile, noi dobbiamo su tutte le filiere, che non è solo quella energetica ma quella alimentare, quella relativa all'acquisizione delle materie prime, dobbiamo essere pronti a delle scelte perché più questa escalation militare continuerà, più il processo sanzionatorio ovviamente si irrigidirà e vi dirò perché questo crea degli effetti globali non solo relativi all'Europa ma anche quando ci sono sanzioni primarie ci sono anche effetti secondari che nell'arco dell'economia globale tocca a tutti quanti, non c'è nessuno che si può pensare di essere immune da questi elementi. Allora però il punto è avere un approccio europeista per cui l'Italia ovviamente non chiede solo compensazioni perché qui ho un punto fondamentale, lo dico così, con la pandemia noi con i vaccini e con il Next Generation abbiamo dato una risposta solidale, con questi effetti economici di un'invasione militare noi dobbiamo giocare non solo sulla solidarietà ma sull'autonomia strategica dell'Europa che si compone innanzitutto due pilastri come si dice necessari che sono l'autonomia energetica, la pianificazione dell'autonomia energetica che costerà perché la transizione ecologica già di per sé prima di questa guerra aveva dei numeri che secondo noi non erano molto corrispondenti ad alcuni calcoli che vedevamo nei negoziati sul Green Deal europeo perché costa, costa la transizione, perché costa il revamping industriale, gli investimenti sulle nuove fonti energetiche, sono grandi investimenti possibili e positivi e allo stesso tempo anche sulla difesa perché la difesa non è solo deterrenza ma la difesa è industria, la difesa è cyber, cioè sono componenti di un mosaico che irrobustiscono quello che è un aspetto che ovviamente fa di un attore globale anche una forza di proiezione internazionale, non è che si può avere un esercito del peacekeeping come leggevamo in passato di 500 persone perché 500 persone o 5.000 persone non è un peacekeeping, è un gruppo che si allena, però un attore globale deve investire perché la difesa noi sappiamo e la politica estera soprattutto che è composta anche qui di proiezione di rapporti di commercio, di migrazioni, gestione dei flussi, cioè un qualcosa di molto più composito ha bisogno di risorse. Il tema non è solo di pretendere solidarietà, ma di pretendere ambizione e pragmatismo io vorrei dire, perché per fare queste cose non è solo l'Italia ma sono i 27 paesi che hanno bisogno di investimenti e dato che questi investimenti non è che li possiamo tirare sempre dai bilanci nazionali, soprattutto quando poi ci dicono che il patto di stabilità ha determinate caratteristiche, perché non ce la farà nessuno, ma nemmeno i paesi più ricchi ce la fanno, anche perché quei tassi di inflazione che abbiamo adesso ognuno deve vedere i bilanci a casa sua in maniera molto attrezzata. Quello che dobbiamo fare è un comune investimento e dire che l'Europa deve essere autonoma dal punto di vista delle sorgenti energetiche dall'unico fornitore che dà per l'Italia 33 miliardi di metri cubi di gas su 70 e che dà per alcuni paesi anche di più. Vogliamo essere autonomi? Come si fa? Come si costruiscono? Come si costruisce autonomia e come si costruisce anche in termini di difesa? Quindi l'approccio e poi è un approccio che è sempre stato di successo anche quando abbiamo negoziato altre cose, il Next Generation Sure, non deve essere solo relativo ai fondi di compensazione, ma deve essere relativo alle spinte che vogliamo creare a livello europeo. E per questo Giglio Vini ha ragione, il ragionamento sugli aiuti di Stato, sulla sospensione del patto di stabilità, sugli effetti economici vanno visti alla luce della realtà. Ora, la Commissione si impegna da qui a giugno a rivedere il quadro, vista anche degli effetti di questa avventura militare scellerata. Anche lì, il patto di stabilità va vista perché abbiamo degli obiettivi, non è che va vista perché quelle regole e quei numeri che furono sanciti negli anni Ottanta, in base alle medie degli anni Ottanta, possono essere applicate a oggi. Perché, scusate, il rientro del debito con quelle… Lasciamo stai il 3% sul deficit che non ha mai rispettato nessuno, credo che non sia negli ultimi anni, ma è stato un elemento di… Ma il rientro sul debito dopo due anni di pandemia, dopo una guerra come quella che stiamo vivendo, non dico che è una regola da rivedere, è una regola completamente da cambiare, perché non ha una forza, soprattutto quando tu chiedi a un Paese di fare idrogeno, nuove fonti rinnovabili, pipeline che collegano, autonomia strategica, diversificare le sorgenti, costruire un'industria, perché noi dobbiamo costruire industria, semiconduttori, materie prime, cioè noi dobbiamo fare il reshoring, abbiamo detto che vogliamo fare il reshoring, cioè vogliamo fare una base industriale moderna in Europa, non è che vogliamo fare il conto terzisti di qualcuno. Quindi per fare tutto ciò noi dobbiamo ragionare come quelle regole regolano. Una volta che si fa il CIPs Act, cioè si decide che l'Europa deve produrre il 20% dei semiconduttori qui, è possibile ragionare sulle regole di aiuti di Stato? Perché non ci sarà nessuno, io credo, in Europa che dall'oggi al domani costruisce un ammontare di quantità di investimenti in base alle regole che ci sono. Quindi io non sono un ideologico, sono un pragmatico, perché se vuoi reggere quei livelli di ambizione e di solidarietà, perché pagheremo tutti gli effetti, devi avere un'idea e questa idea non può essere di utilizzare l'Europa in termini di patto di stabilità aiuti di Stato che avevamo prima del Covid. Poi c'è un punto, l'ha sollevato Gillo Vigna, ma l'ha sollevato anche l'onorevole Rossini, su Bruxelles Mediatore. Io penso che il peggior negoziato sia sempre meglio dell'utilizzo delle armi, assolutamente. Il peggiore, anche quello più sconclusionato, quello difficile, abbia una superiorità morale, etica e soprattutto in termini di vita umana rispetto all'intervento militare. L'antichità, o meglio, l'idea vecchia che ha l'ideologismo putiniano oggi è proprio questo, pensare che con le armi tu ricostruisci una storia nuova e un equilibrio. Io credo che sia un'idea molto vecchia e che deve essere sconfitta. E deve essere sconfitta anche con il coraggio. Zelensky sotto le bombe guida la resistenza, ma è pronto a un negoziato a tutto campo. Mi sembra molto più coraggioso lui che non lanciare 200.000 persone a invadere un paese. Ora, qual è il punto? Noi non abbiamo uno schema classico di mediazione. Non ci sono due soggetti, come si dice di solito, nelle relazioni internazionali equiparabili in cui tu ti frapponi e dici cessate il fuoco e negoziamo. Qui c'hai una sproporzione di mezzi militari, un'illegittimità di azione e quindi la mediazione deve essere fatta innanzitutto producendo una reazione durissima e la pressione economica finanziaria, le sanzioni che vi ho elencato, è una pressione da isolamento perché nessuno anche non solo sulle sanzioni primarie, ma su quelle secondarie, che significa anche tratti di commercio, scambi, interrelazione tra soggetti economici globali. Quindi non stiamo parlando solo di Europa, Stati Uniti e Russia, ma stiamo parlando di un contesto di commercio globale. Putin dice che questa era una guerra perché era accerchiato, si ritrova un isolamento che è spaventoso e non so come l'economia russa regga, dato che si basa largamente sull'export di idrocarburi, non c'è il PIL della Russia, è paragonabile credo a Belgio e Olanda messi insieme, stiamo parlando di una potente macchina industriale, una potente macchina di export di idrocarburi. Allora noi dovevamo fare per forza questo, non solo per la legittimità internazionale, per la cartellona, ma perché per produrre una mediazione o tu equilibri le forze in campo e le forze in campo sono sproporzionate, c'è un aggressore e un aggredito e per riaprire un negoziato devi fermare e denunciare quello che sta succedendo. Quindi nessuno in Europa pensa che il negoziato sia da evitare, nessuno pensa che questo sia irreversibile, ma per reggere un negoziato e anche per dare la possibilità poi a altri attori globali, da Israele, Turchia, ho visto India, Cina, tutto positivo. La mediazione non deve essere fatta sotto il fuoco delle bombe e dell'invasione, deve avere un chiaro stigma. Quindi per questo nessuno tra di noi pensa di rinunciare al negoziato, ma il negoziato si parte condannando, fermando e chiedendo almeno un cessato del fuoco perché sennò non si può realizzare. Per questo anche le questioni che diceva l'onorevole De Luca delle sanzioni per fermare il negoziato avrà degli effetti. Su questo rimando alle parole del Presidente Mattarella. Noi dobbiamo cercare di comporre l'autonomia strategica anche con nuovi strumenti. Questo sarà il tentativo avversario domani su energia e governance economica e difesa. Io penso sempre che la via delle soluzioni sia infinita. Vi ricordo che due mesi prima di fare Next Generation la cancelliera Angela Merkel disse che finché era in vita non ci sarebbero stati bond e poi ci sono stati bond anche per merito suo. Quindi tutte le vie per arrivare a quelle soluzioni sono sempre possibili. Ora non so la vicenda è uscita adesso degli euro bond per il gas, sono uscite tante cose. Io ho sempre pensato che il Next Generation sia una grande potenza ma l'utilizzo di uno strumento SURE che era molto veloce, pratico, governato centralmente con dei target su beni pubblici, in quel caso lavoro, può essere riproposto per altri strumenti come per l'energia, come per la difesa. Cioè è uno strumento centralizzato, utilizzabile con un tiraggio sui mercati molto forte perché SURE è andato benissimo e che venga utilizzato proprio per costruire questi settori di aggregazione. Quindi io penso che tutti gli strumenti dobbiamo essere pronti. ovviamente quello che il Parlamento ci ha dato come mandato, sia su patto di stabilità, sia su autonomia strategica, fa fede per il governo e su quello lavoreremo. Le spazio dei rischi, come diceva l'onorevole Colannino, sono evidenti, dobbiamo essere pronti, dobbiamo dire anche la verità, queste le classi dirigenti devono essere abituate sempre a dire la verità, perché dobbiamo essere pronti a reazioni per degli shock o per delle difficoltà che possiamo avere e incontrare nei prossimi giorni. L'onorevole Galizia Termino parlava del Next Generation. Ora, questo è un dibattito che sta andando avanti, leggo molte analisi, soprattutto legate all'aumento dei costi di alcune materie prima, penso a acciaio e cemento innanzitutto. Io la dico come la vedo, io credo che il Next Generation abbia una timeline, una tempistica che non deve essere vissuta come una strozzatura, a maggior ragione in periodi come questi, perché l'iniezione di 20 e passa miliardi, quest'anno in due tranche arriviamo a 40, regge l'elemento dell'investimento pubblico e regge una reazione economica che è fondamentale in questo momento. Se noi guardiamo i dati del passato sappiamo che la difficoltà del nostro paese era avere investimenti pubblici, avere una capacità di mobilitare risorse che mantenessero il livello della reazione economica stabile. Se noi cedessimo su questa tempistica possiamo pure discutere quello che vogliamo, ma rinunciamo al fatto che la reazione economica che ci ha permesso anche col 6 e 6 l'anno scorso, adesso vedremo quanto faremo quest'anno, a avere più risorse per reagire è complicata. Quindi io al di là dei regolamenti di Bruxelles su Next Generation, non è che parlano di una revisione, modello, emendamento, legge e bilancio, lì è tutto è un contratto che abbiamo firmato. Io dico non sottovalutiamo l'importanza di avere questa potenza di fuoco che è stabilita nel percorso. Il governo, come sapete, questa è una mia ipotesi, il governo ha dato vita a questo fondo complementare che accompagna il Next Generation di 30 miliardi e io credo che lì ci sia per esempio lo spazio per ragionare come contemperare alcuni elementi. Questo è un dibattito che con il governo, con il MEF, il Parlamento ha tutto il diritto di fare perché ci sono gli aumenti. Però se noi mettessimo in discussione la tempistica che è netta, però serve perché noi abbiamo la sicurezza per sei anni di avere un livello, con i venti di guerra ancora meglio, un livello di tenuta alto io non lo metterai in discussione. Faccio presente che sui bandi, il nostro dipartimento non è un dipartimento di spesa e noi sui bandi siamo più rigidi di tutti perché ovviamente avendo negoziato quel Next Generation l'intenzione nostra è di andare a Bruxelles e dire avete visto che l'Italia lo fa, quindi sui bandi se trovate qualcuno poco diplomatico, io uso il primo perché tutto deve funzionare e deve funzionare in una macchina che tra lo Stato e le regioni e i comuni abbia dei criteri validi, si sono fatti già tre criteri semplificazioni, io credo che il vaglio del Parlamento per vedere se tutto funziona sia necessario, ma noi siamo i primi, siamo i più rigidi noi del Dipartimento a vedere se tutto funziona perché è un bene pubblico che non vogliamo strozzare. E aggiungo sempre, non dimenticate che accanto ai 205 più 30 il fondo complementare del Next Generation ci sono sempre fondi del QFP che sicuramente non sono figli di un Dio minore, ma andrebbero utilizzati pure loro, perché stiamo parlando di cento e passa miliardi, che sono fondamentali anche quelli per la ripresa economica, a volte qualcuno pensa, vabbè ma quelli poi vediamo, no poi vediamo, quelli vanno utilizzati anche con una forza. Quindi sulla riflessione che facevano le regole Galizia sull'aumento dei costi e sugli effetti che vedremo, io credo che bisogna ragionare tutti insieme, vederlo soprattutto per quanto riguarda le materie prime e gli impatti, però non sottovalutiamo che la tempistica del Next Generation non era per chi vince la gara e chi arriva prima, era proprio per mantenere una sostenibilità della reazione economica e degli investimenti pubblici che in Italia storicamente nel periodo dell'austerity era un dramma stabile, continua, che spingesse la macchina a un continuo pulsare di energia soprattutto per le nostre piccole imprese e anche per i comuni, anche andando a superare quelli che erano i criteri dell'austerity, soprattutto del pubblico comparto che hanno ammazzato poi non solo la spesa pubblica ma anche la qualità della macchina pubblica. Perfetto, grazie a sottosegretario Amendola per le sue sempre gradite disposte e dichiaro chiusa questa audizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.